New train station of Villaregina It's so cold Alla Vicer This encropped Ok E' 8, 20 minuti E' 8 Sì, non è? 47 42 Mamma mia Ma ora quanto ci vuoi per tornare a casa? 8, 5, 6, 8, 4, 3 12 personal 100 kg Che devo fare sci Vedi che è così Dove che parlo? No Piano terra Già c'è lui a parlare quindi Se vuoi che parlo parlo Oh, che bella stazione Voglio vederla per spizio Ah, per Napoli ecco Sì, infatti Hidraulica la vedo Ma questa che cosa è? Oh Telecontrollo Ma è andata E' 560? Eh, l'hai messa in allarme Oh cazzo Mi è scassato Si è rotto Si è rotto Aspettiamo un attimo Ma che bussato Perché che codì mi ha bussato Che ha bussato? Che ha bussato? Aspetta un attimo Aspetta Ma cosa se ne va? E allora non c'è Mi va brutto E' colpa sua Ah, era venuto qua intanto L'appoggio marino L'appoggio marino Ah, si va a Napoli Ok, perfetto E' la regginata Per Napoli Grazie